imparare le differenze fa la differenza sostieni diverso da chi dona su piattaforma produzioni dal basso bastano pochi euro per sostenere il progetto con una libera donazione oppure scegli una delle ricompense che abbiamo pensato per te puoi donare con sistema paypal oppure con la tua carta di credito o prepagata o ancora puoi scegliere di fare un bonifico tramite lemon way questi sistemi insieme a produzioni dal basso faranno da garanti perché le donazioni vengano utilizzate per realizzare il progetto al termine della campagna riceverai aggiornamenti per sapere tutto quello che siamo riusciti a fare grazie al tuo sostegno www.produzionidalbasso.com grazie a tutti grazie a tutti